perchè abbusco come cucino eh ma che dice? no 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 ti abbusco e come fa nè? città si per un tuo canto siiii ne cos'è nonna? bim 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 allora non c'era bisogno lasciare tutto un po' lato tanto ho i sintoni perchè va perchè i piccoli non puoi te ne caccio a mua dici ma io non c'è io che c'era i piccoli che c'era i piccoli ma non mi ha capito ma non mi ha capito non mi ha capito niente diciamo che io ho cittadino e cercando veramente un grandissimo in questa cosa non sai niente ma scusa no io ero da portare un cittadino e entro a marcia io ti ho capito con febri ma non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito io non ho capito e pensavo a mio e pensavo a mio e basta non ho capito non ho capito mi ha capito ma non ho capito ma io ho capito direttamente mi avevo intorno alla stazione ma io sono buono 18 e quando mi dicevo io sono filmato e chi? e la filmati ma che riesceci nella mia cosa? io c'è io ho capito ma io ho capito io ho capito io ho capito io ho capito ma pensavo che ho capito io ho capito e trattato e se c'è non ho capito quindi se ne parla se ne parla io non ho capito ma il merce ha capito se ne riesce è nato non le cose come si è come si è come si è Che fa raga signore? Da dove foste magari non c'è vede, non c'è qui. Sono 5, 10, 15 e c'è, 18. Va beh, ne parliamo l'unico, non c'è molto. Se tu non è l'unico, non c'è la parte. Ma è questa idea, a lei mi deve vedere come è questa idea, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è un bel posto. Grazie.